A Piercesare, Rhein, Bertolino, Altezzano, Torino, Ceva, 19 marzo 1945. Old Rhein, dal quarto Plotone Fucilieri sono stato trasferito al Plotone Mortai, 45. Virtualmente questo trasferimento è onorifico perché implica un riconoscimento di prestanza fisica, ma rimpiango semplicemente il mio ottimo tenente e i miei simpatici sottoufficiali del valoroso quarto Plotone. E' un colpo di naia, ma tiremmo innanze. Ieri sono stato ai tiri di addestramento dell'attrezzatissimo poligono di Lesegno. Tendi l'orecchio e stupisci. Beppe, ignorantissimo di balistica e generi affini. Beppe, che nei tirassegni di Piazza San Paolo mai aveva avuto l'umile satisfazione di frantumare una pipetta di gesso con un caricatore da guerra. Sono sei colpi, caso mai nella vaselina non ve li insegnassero. E alla distanza di 100 metri ha realizzato 21 punti su 24. Ha ricevuto gli elogi del suo purtaci turno nuovo sergente e ha sensibilmente migliorato i già buoni risultati ottenuti ai tiri ridotti. Conseguentemente sono stato classificato tiratore di prima classe, attendo fiducioso gli esami di tiratore scelto. Questo, e te lo dico per il tuo bene e per avvisarti, significa che io a 100 metri non manco il mio uomo. Se non erro, già t'ho informato che ora sono un insigne mortarista. Mortarista? E qui fa una digressione che andrà a vantaggio della tua cultura armaiola. Mortarista è colui che spara il mortaio e non colui che ci pesta dentro, come potresti essere indotto a credere dalla tua inclinazione farmaceutica. C'è caso che a Pasqua ci si riveda. Che faremo, Rhein? In quei pochi ma memorabili giorni. Mangeremo giorno e notte a strippa pancia? O passeggeremo a lume di luna con immancabili serenate all'amor di terre lontane? O ci sbronzeremo coscienziosamente con due bicchieri al massimo? O faremo di nostra iniziativa una festicciola al caffè con polvere di stelle, macedonia extra e gran spumante bosca? Basti là. Questi per ora sono sogni. Quando si avvereranno, saremo grigi, Rhein. Comunque stai bene. Fai poco o niente, già è che ne hai la possibilità. Escrivimi, ampiamente e spesso. E ficcaci pure tutti gli sfarfalloni che vuoi, che tanto la naia mi ha reso insensibile e al tempo stesso indulgente. Ciao, Rhein. Beppe. A Piercesare, Rhein, Bertolino, Altezzano, Torino, Ceva, 30 marzo 1943. Aspetta, Rhein. Tra una settimana parto per le manovre di guerra. Tu sai che spesso vi si verificano incidenti anche gravi. Ogni manovra di guerra ha avuto le sue vittime. Pochissime, ma ci sono state. Penso di non essere destinato a crepare in manovra. Sento tuttavia il bisogno, quasi il dovere, di contemplare questa eventualità. Sai che sono assegnato a un'arma quale il mortaio, eminentemente rischiosa. Aggiungo che noi mortaristi dovremmo subire il fuoco concentrato delle mitragliatrici. Non ho voluto. Non ho osato accennare a questa possibilità, o meglio, a questa probabilità di incidenti davanti a mia madre, che oggi, 30 marzo, è venuta a trovarmi. Non ho paura, Rhein. Prospetto semplicemente una possibilità. Nel caso mi succedesse qualcosa, ho lasciato per te una lettera sigillatissima che ti verrà recapitata infallibilmente. Ma solo nel caso che mi succeda qualcosa. Una lettera brevissima che ti affida un'unica e non penosa incombenza. A campo felicemente concluso ti riscriverò e allora tu, Rhein, questa pagina dettata, non da un qualsiasi timore, ma dall'intima necessità di non scomparire, se così fosse destino, senza senso e senza eredità, anche se minime, di cuore e di mente. State sempre bene, tu e Anna. So che devi molto ad Anna e so che lo sai e sei felice di riconoscerlo. Felice te. Forse te la sei meritata, questa tua umana felicità. E' difficile provare a ripercorrere la vita di un uomo, a stringerla in un pugno di parole, in una manciata di minuti. Anche se purtroppo è stata così breve, come la breve vita di Fenoglio, nato Giuseppe, ma quasi da tutti chiamato sempre Beppe, morto a neppure 41 anni, all'una e trenta di notte, il 18 febbraio del 1963, non lontano da qui, in una stanza dell'ospedale Molinette. Nevicava molto quell'inverno, neve dappertutto. E tra la neve, quella notte, come nelle parole di Davide Laiolo, Beppe tornava tra i suoi compagni partigiani, rimasti nei ritani, sui sentieri, negli anfratti del Belbo e del Tanaro. La vita di ciascuno è una faccenda strana, una questione privata, è un grande mistero, è un punto di domanda. Comunque Beppe ha scritto sul suo diario, quasi volesse semplificarci il compito, perché, come avrebbe detto lui, non la facessimo più lunga del dovuto, sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano e la qualifica di scrittore e partigiano. Mi pare di aver fatto meglio questo che quello. E non ci sarà pericolo che il vento spezzi la mia lapide, giacché giacerò nel basso e bene protetto. Cimitero di Alba. Alba, dove è stato sepolto dopo un sobrio funerale civile in un silenzio grande, senza fiori, tranne una piccola corona portata da un amico partigiano, né discorsi, come lui aveva deciso, e durante il quale, sulla strada verso il cimitero, all'altezza del passaggio a livello, l'amico don Natale Bussi, che per la prima volta partecipava a un funerale civile, poggiò la mano sulla bara e salutò l'amico. Caro Beppe, ricordi, venerdì scorso, dopo l'invocazione della misericordia divina, tu mi scrivesti su un foglietto che avevi dato disposizione per i funerali civili. Io ti risposi che quando si è raggiunta la linea verticale che porta in alto, non conta più nulla o quasi ciò che riguarda la linea orizzontale che nasce dagli uomini e resta tra gli uomini. Così io, in questo momento, proprio come tuo amico, a nome mio personale e di tanti altri tuoi amici qui presenti, invoco dallo stesso Signore per te la requie e la pace eterna. Arrivederci, caro Beppe. Arrivederci. Alba, dove era nata e cresciuta mia madre, che da bambina lo vedeva spesso al caffè duomo, seduto a un tavolino, intento a scrivere, scriveva sempre, mi diceva, e sentiva altri avventori che gli lanciavano un'occhiata e che si sgomitavano indicandolo parlare di lui definendolo un fagnan, uno che non fa niente, uno che perde tempo nella difficile vita di allora. Anche mia madre lo chiamava Beppe. Vedevo spesso Beppe là al caffè, mi diceva. Lo chiamo anch'io così, come avete sentito, per un amore grande, ma composto, per una strana forma di confidenza o di appartenenza, per quel misto di sangue, di langa e di pianura che fa anche a me, come faceva lui, battaglia nelle vene. E perché nel sangue mi scorre parte della storia che è stata la sua nel fango e nella nebbia delle langhe, tra latrati di cani e colpi di fucile, finita poi per noi, ma soprattutto per quella bambina che lo vedeva al Duomo e che era figlia di partigiano nel campo di concentramento di Dachau. Alba, una cittadina di 14.000 abitanti a quei tempi, molto piccola, destini che si intrecciano. La vita di un uomo o di una donna è sempre una faccenda strana, vi dicevo, una questione privata, un interrogativo irrisolvibile. Anche la vita di Beppe, che come scrisse Pietro Chiodi, suo professore di filosofia al liceo Govone di Alba, era un impasto di estrema tenerezza e di rigorosa asprezza. Fu proprio a Pietro Chiodi, professore amico di Beppe, che Italo Calvino scrisse nel 65 di Fenoglio, così scrivo in vita, tutti vorrebbero sapere di più. Sapere di più, già. Beh, ci sono i suoi racconti e i suoi romanzi, certo, che dicono di lui e insieme lo nascondono, come fa sempre quello che scriviamo. Ci sono le fotografie, ci sono i saggi critici e le testimonianze, ci sono le parole di sua sorella Marisa, di suo fratello Walter, di sua figlia Margherita e poi ci sono le sue lettere. Questo piccolo, preziosissimo tesoro, le lettere rimaste, quelle sopravvissute, quelle conservate dai destinatari o fortunosamente ritrovate, non che Beppe, in ogni caso, ne scrivesse di continuo. Raccolte in questo epistolario, scarnificato, sobrio, essenziale. Lettere agli amici, Giovanni Drago e Piercesare Bertolino, per esempio, scritte da un Beppe giovane appena diciannovenne. Lettere all'amica Anna Maria Buoncompagni, figlia del Capostazione di Santo Stefano Belbo. E poi le lettere indirizzate a Italo Calvino, molte, che dal gennaio del 1950 era stato assunto come responsabile dell'ufficio stampa in Audi. Quelle a Pietro Citati, a Livio Garzanti, ad Attilio Bertolucci, a Elio Vittorini, il cui risvolto di copertina di La Malora fu per lui un dolore. Lettere a Giulio Inaudi, a Gina Lagorio, a Gian Battista Vicari, fondatore e direttore della rivista letteraria Il Caffè. A Italo Calvino, Torino, Alba, 10 novembre 1950. Caro signor Calvino, rientrando da Genova, dove ho curato un'esportazione, questo infatti è il mio mestiere, trovo la sua lettera del due corrente mese, lettera veramente buona e amica, grazie della sua recensione che di vera e propria recensione si tratta e ancora la ringrazio per il suo impegno e la pazienza. Il suo giudizio concorda pressoché in ogni punto quella mia purtroppo tardiva autocritica. è tragico, benché umano, che degli errori, piccoli o grandi che siano, ci si accorga sempre tardi, un minuto o una vita troppo tardi. Sono lieto che altri della casa editrice in Audi legano il mio manoscritto e solo mi auguro che il loro giudizio riesca al pari del suo centrato, sincero energetico. Non sono impaziente, mi creda, di conoscere la sorte agli effetti della pubblicazione di La paga del sabato. Davvero né io né il mio libro ci sentiamo di affrontare una critica quale la sua e la critica quella buona suonerebbe quale la sua. Sto piuttosto rifinendo per raccoglierli poi in volume una quindicina di racconti, di racconti di partigiani e di preti di mendichi di paesani e di reduci di suicidi e di piccoli pittori. In stretta confidenza per questi miei racconti già ha dimostrato interesse il signor Guido Lopez della Mondadori ma io amerei darli a voi per la stampa se la meriteranno ben inteso. A ciò mi induce sinceramente parlo proprio la buona cordialità della sua lettera. Mi scriva con suo comodo ancora qualcosa signor Calvino io la ringrazio sindora e mi riservo il piacere di stringerle la mano devo venire ogni tanto a Torino al consolato americano per pratiche d'esportazione non le prenderò più di un minuto just to look in and shake hands se nulla osta da parte sua io non voglio davvero limitare la mia conoscenza di lei al campo epistolare ancora grazie signor Calvino e i miei migliori saluti devotissimo Beppe Fenoglio A Italo Calvino Alba 9 febbraio 1952 Caro Calvino scusa anzitutto l'impiego di carta della mia ditta ma non ne ho altra sotto mano e desidero rispondere senza indugio alla tua buona lettera del sei corrente mese perfettamente d'accordo sulla definitiva composizione del volume e sull'epoca della sua pubblicazione ma davvero ritenete che i racconti barbari siano una cartuccia da riservarsi per grosse tenzoni spero che non abbia a farci lecca comunque ciò che decidete voi è ben deciso che ci venga buona circa il tuo gettone avrò caro riceverlo grazie del pensiero mi chiedi una fotografia ora sono sette anni circa che non mi faccio fotografare dispongo di una sola istantanea abbastanza felice ma temo che non faccia al caso vostro poco seria temo con quello spiegamento di coca cola comunque te la mando perché ripeto non ho altre mie foto se proprio non va e credo di poter anticipare il giudizio negativo un mio amico fotografo me ne farà un'altra un corretto mezzo busto che ti manderò di fretta circa i dati biografici e dettaglio che posso sbrigare in un baleno nato 30 anni fa ad alba primo marzo 1922 studente ginnasio liceo indi università ma naturalmente non mi sono laureato soldato nel reggio e poi partigiano oggi purtroppo uno dei procuratori di una nota ditta enologica credo che sia tutto qui ti basta no? sono stato parecchie volte a Torino e avrei voluto rivedervi almeno di volata ma ero in trasferta col mio principale quindi niente evasioni mi è rincresciuto ogni volta ciao Calvino e grazie salutami la signora Ginzburg e Vittorini quando verrà Beppe Fenoglio Alivio Garzanti Milano Alba 8 settembre 1958 egregio dottore la ringrazio della sua lettera del 5 corrente mese per venuta mi stamane rispondo immediatamente e con tutta franchezza ella non mi appare troppo convinto né troppo soddisfatto del libro la sua opinione per me estremamente importante differisce notevolmente dal giudizio pur includente riserve sulle quali sono sostanzialmente d'accordo espresso dall'amico citati molto me ne rammarico perché avrei voluto fervidamente che questo nostro primo incontro le riservasse tanta più soddisfazione io opero e decido per convinzione ed amerei che il mio partner si lasci definire così partisse da una pressoché uguale base di convinzione so bene anch'io che la seconda parte del libro è nettamente superiore alla prima so bene anch'io che il linguaggio non sempre è realizzato e consistente benissimo ha detto citati una certa quala stratta baldanza ma su pure o anch'io i miei sensibili amici che il libro è in sé opera singolare e con parecchi punti d'aspetti di forte interesse artistico e tecnico mi permetta di continuare con la medesima franchezza è in sé e la non vede l'opportunità di dare alle stampe questo libro isolato tanto più che qualche taglio gli servirebbe e gioverebbe e su questo punto sono d'accordo e la inoltre vorrebbe e legittimamente avere un assaggio del secondo volume ebbene io debo dirle che non potrò presentare il secondo volume avanti la prossima estate posso soltanto anticiparle ma potrei sbagliare di grosso naturalmente che questi successivi venticinque capitoli mi paiono del tono e al livello della seconda parte di primavera di bellezza ora le mie condizioni fisiche sono tutt'altro che brillanti dessi retta al mio medico e sarebbe ora che io cominciassi a farlo non mi siederei alla macchina per scrivere prima di dicembre gennaio tutto ciò che io potrei fare in questi mesi non senza fatica e sacrificio sarebbe la revisione della prima parte del libro tagli piallature riallacciamenti naturalmente tenendo in sommo conto i suggerimenti e i sconsigli suoi tale essendo la non simpatica situazione io mi permetto suggerirle non conviene che ella mi dia mano libera per il collocamento altrove di primavera di bellezza e se lei lo desidera io prendo preciso impegno di riservare alla sua casa un mio prossimo libro che le dia maggior affidamento in fatto di maturità e costanza di livello le sarò oltremodo grato di suo cortese sollecito riscontro e le porgo egregio dottore i miei migliori saluti suo devotissimo Beppe Fenoglio PS mi scusi ma dimenticavo ho visto lo schema di contratto gentilmente inviatomi e mi dichiaro sostanzialmente d'accordo su vari punti vorrei invece discutere la clausola concernente il diritto di opzione egregio dottor Garzanti Alba 29 maggio 1959 ricevo la sua lettera del 25 corrente mese proprio mentre mi accingevo a scriverle avrei voluto e dovuto farlo almeno una settimana dietro ma in questi ultimi sette giorni sono stato afflitto da una gengivite acuta che in uno coi sedativi mi ha completamente inebetito non mi congratulerò mai abbastanza con me stesso per aver deciso di affidare il mio libro alla sua casa sono estremamente soddisfatto della presentazione di Primavera di Bellezza meglio di così non si poteva fare a questo proposito la pregherei esprimere a Fulvio Bianconi la mia ammirazione per la sua sovracoperta io e i miei amici di Alba l'abbiamo trovata intelligentissima citati lo ringrazio personalmente per il suo bel risguardo sono lieto del buon livello iniziale di vendita e sono anch'io persuaso di un certo incremento se la critica si esprimerà favorevolmente a quel che mi consta di recensioni non ne sono ancora apparse un ignoto lettore di Padova mi ha scritto ieri l'altro dicendomi che per lui Primavera di Bellezza è uno dei più grossi fatti stilistici della nostra letteratura del dopoguerra sarebbe eccellente se una parte almeno dei critici la pensasse come questo oscuro lettore un anonimo milanese mi ha cortesemente spedito un ritaglio del giornale La Notte dal quale risulta che nella scorsa settimana Primavera di Bellezza era in testa alle vendite in due delle otto maggiori librerie milanesi a lei dottor Livio io debbo almeno tre monumentali grazie uno per la fiducia riposta in questo narratore piemontese noto solamente a ristretti circoli letterari un secondo per la eccellente presentazione del libro e un terzo infine per la cortese e illuminata fermezza con cui a seguito di una mia nervosa ed errata presa di posizione ricorda ella praticamente mi obbligò a rifarlo il libro il risultato ha lampantemente dimostrato che lei aveva visto infinitamente più giusto di me verrò certamente a Milano e presto e non mancherò di preavvisarla avremo così campo se le interessa di parlare un po' del mio nuovo libro esso procede lentamente ma sinceramente e conto proprio passarglielo nel 1960 ancora grazie e cordialissimi saluti suo Beppe Fenoglio ecco in queste lettere troviamo le parole di Beppe pensate e scritte da Beppe per se stesso non per Milton o per Johnny per i suoi personaggi no proprio per sé per la sua vita per le sue gioie altrettanto sobrie e contenute e per i suoi travagli la sua ricerca il suo senso del tragico lui che si diceva un appartato che fin da giovanissimo si era calato con ogni sua fibra nella lingua inglese che era capace di slanci di scherzi di compagnia di grande ironia e appunto tenerezza e poi di profondissimi silenzi lui pieno di dubbi riguardo alle sue prospettive letterarie vi leggo un piccolo estratto piccolo piccolo da una lettera a Bertolucci Alba 29 novembre 1961 è certo caro Bertolucci che mi sono impegnato con Einaudi non solo ho firmato il contratto ed incassato l'anticipo ma attendo da un giorno all'altro le bozze dalla tipografia così come è certo che la sua idea di raccogliere in un volume unitario tutti i miei racconti è tanto più bella e organica della parziale selezione disposta da Einaudi è inutile dirle che del contratto mi sono rammaricato e mi rammaricono un poco e tutto sommato la colpa è mia che vivo volontariamente troppo ai bordi e tratto queste cose con esagerato distacco e nonchalance da dilettante un po' snob Beppe era un uomo che amava una città che pur gli stava stretta che aveva nel sangue le colline dei Fenoglio e quando era là sulle colline la nostalgia per Alba e che teneva insieme la guerra partigiana coi volti dei compagni morti la pioggia il fango la paura il coraggio e una canzone come Somewhere Over the Rainbow ecco un piccolo passaggio di una questione privata fuori il vento era calato a un filo gli alberi non mugivano né sgrondavano più il fogliame ventolava appena con un suono musicale insopportabilmente triste Somewhere Over the Rainbow Skies are blue And the dreams that you dare to dream really do come true Ai bordi di un paese un cane latrò ma breve e spaurito scuriva precipitosamente ma sopra le creste resisteva una fascia di luce argentea non come un margine del cielo ma come una effusione delle colline stesse a proposito di una questione privata ecco un'altra lettera a Livio Garzanti Alba 8 marzo 1960 egregio dottor Livio Garzanti mi ha fatto moltissimo piacere ricevere la sua lettera l'ho trovata in casella rientrando a casa dall'aver sentito presso amici la trasmissione dell'approdo che conteneva il pezzo il Piemonte di Fenoglio Primavera di bellezza vi veniva abbondantemente citata d'accordo con lei che il libro ha riscosso un'affermazione che può tranquillamente definirsi notevole a me sono pervenute circa 160 recensioni e passiamo al seguito avevo già scritto 22 capitoli dei 30 previsti dall'impianto del romanzo e sarei stato in grado di consegnarle il manoscritto tra non molti giorni come lei scrive si trattava di una storia sul tipo primavera di bellezza concedente cioè larga parte di sé alla pura rievocazione storica sia pura ad alto livello d'improvviso ho mutato idea e linea mi saltò in mente una nuova storia individuale un intreccio romantico non già sullo sfondo della guerra civile in Italia ma nel fitto di detta guerra mi appassionò immediatamente ancora mia passione mia passione infinitamente di più della storia primitiva ed è per questo che non ho fatto troppo sacrificio a cestinare i 22 capitoli già scritti il racconto ha un suo light motif musicale nella celebre canzone americana Over the Rainbow che costituisce badi che i personaggi sono tutti ventenni e men che ventenni la sigla musicale del disgraziato complicato amore letterario del protagonista Milton nome di battaglia per Fulvia coprotagonista femminile la quale però appare e vive soltanto nella memoria di Milton impegnato fino al collo nella guerra partigiana per quanto precede il titolo potrebbe essere se non le pare troppo canzonettistico lontano dietro le nuvole o se vogliamo addirittura in inglese far behind the clouds è una frase presa di peso dal testo della succitata canzone a oggi ho scritto circa un terzo del romanzo procedo ad agio perché intendo fare le cose per bene in profondità è ovvio quindi che è materialmente impossibile che io le invii ma hanno scritto a breve scadenza mi considererò estremamente fortunato se potrò consegnarglielo a fine prossimo autunno abbia pazienza avrò piacere di leggerla in risposta a questa mia e le porgo egregio dottor Livio i miei migliori saluti suo B Fenoglio era un appartato Beppe nella sua sonnolenta piccola città di provincia una città a volte così chiusa dalla quale inviava le sue lettere le sue lettere a un mondo come direbbe Emily Dickinson che in parte non gli ha risposto subito un uomo al quale scrivere costa la vita intera ripensamenti rifacimenti riscritture scrivo per un'infinità di motivi ha detto per vocazione anche per continuare un rapporto che un avvenimento o le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile anche per giustificare i miei sedici anni di studi non coronati da laurea anche per spirito agonistico anche per restituirmi sensazioni passate per un'infinità di ragioni insomma non certo per divertimento ci faccio una fatica nera la più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti scrivo with a deep distrust and a deeper faith un appartato secondo alcuni troppo chiuso troppo riservato ruvido scostante non integrato con naturalezza e leggerezza in una rete di rapporti e relazioni letterarie sempre al confine perennemente al margine col cuore su quelle sue colline con la memoria stampata a fuoco di ciò che vi era accaduto dunque magari un brocco sì probabilmente un brocco agli occhi di qualcuno eppure nel 1959 dopo che Garzanti ha candidato primavera di bellezza al premio strega Pietro citati gli chiede di inviare un telegramma a Maria Bellonci per comunicarle il suo rifiuto a partecipare al premio e che Garzanti ha candidato anche una vita violenta di Pierpaolo Pasolini ed è su quel romanzo che vuole puntare e così Beppe dovrebbe autoescludersi diciamo che male fa sarà per un'altra volta Beppe al telefono vacilla e dice che sì con quel suo carico di dubbi quella sua lontananza quel non sapere bene che fare né come muoversi in un mondo letterario che non gli appartiene ma poi prima settimana di giugno 1950 caro citati sono in dovere di avvertirla che non ho lanciato alla signora bellonci il telegramma di rinuncia sul quale eravamo rimasti intesi al telefono questo per un unico motivo lei mi ha menzionato due fiorentini quali presentatori miei allo strega ho fondate ragioni di pensare che si tratti di Roberto Longhi e Anna Banti ora con che faccia io fronteggerei questi due signori e quei pochi che stanno alle loro spalle noi mi diranno ci siamo disturbati a presentarti e trovarti qualche po' di consensi e tu rinunci con un telegramma con che faccia caro citati come ella saprà io debbo non poco a questi signori e per niente al mondo voglio alienarmi il loro non facile favore ogni altra considerazione estranea alla mia decisione di non telegrafare nel senso convenuto lei mi sa sincero quando affermo che i premi letterari non mi tolgono né il sonno né l'appetito io non scrivo per competizione per quanto la sportmanship sia un evidente aspetto del mio carattere alla radice del mio scrivere c'è una primaria ragione che nessuno conosce all'infuori di me l'idea di danneggiare Pasolini è lontana da me almeno quanto l'idea di favorirlo praticamente non lo conosco né come uomo né come scrittore e poi lo spirito di scuderia due garzantini nemmeno mi sfiora io sarò un brocco ma un brocco brado so benissimo che al romanzo che al romano premio strega io raccoglierò scarsissimi suffragi il contrario sarebbe perlomeno stupefacente con tutto ciò io non penso che ci lascerò le penne se allo strega avrò pochi voti come certo non perciò mi sentirò diminuito così come non mi sentirò maggiorato se mi vedrò assegnato lo strega assurdo ecco perché non ho telegrafato la signora Bellonci per l'unico motivo della faccia venendo in Piemonte non manchi di avvisarmi ci vedremo a Torino ad Alba dove le farà più comodo con i miei più cordiali saluti Beppe Fenoglio Brado vuol dire libero vuol dire indipendente c'era la libertà per Beppe come sempre e c'era la verità solo la verità di nuovo da una questione privata Milton avrebbe rinunciato a tutto per quella verità tra quella verità e l'intelligenza del creato avrebbe optato per la prima una verità da dire con le sue parole e con la sua voce parole e voce che andavano cercate duramente la verità la sua grande questione privata è una faccenda che richiede indipendenza una ricerca che non può fare sconti che non ha mezze misure né piccole scaltrezze né furbizie per cui bisogna correre 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 vada come vada costi quel che costi alba 15 ottobre 1962 caro Italo grazie della tua lettera vecchia ormai di settimane la vedo purtroppo appena ora rientrando da oltre un mese di confino in alta collina mi è infatti sopravvenuta una molto seria affezione polmonare per la cui risoluzione occorreranno un bel po' di mesi pazienza bisogna essere disponibili parto a momenti per cuneo dove sarò sottoposto a tutta una serie di esami forse riuscirò a sfuggire al sanatorio e mi consentiranno di curarmi in modo autonomo penso comunque che tornerò da cuneo verso la fine di questa settimana e salvo imprevisti potrei venire a Torino in qualsiasi giorno della settimana avventura vedi se puoi fissarmi un appuntamento quando più ti accomoda e se dovessi decidere nel corso di questa settimana abbi la cortesia di telefonare a mia moglie alba 3376 da mezzogiorno a luna precisandole il giorno e l'ora in cui potrai ricevermi grazie a voce sono certo che ci intenderemo bene e rapidamente abiti intanto caro Italo i miei più cari saluti la vita è un grande mistero un punto di domanda ed è un mistero che comincia che dura chissà quanti anni e che poi finisce o forse invece no comunque è ad alba che quest'uomo ora riposa o forse sta continuando a correre ovunque sia corre come il suo Milton alba è una città che lega che trattiene a sé ricordo ancora la nostalgia negli occhi di mia madre nata quando Beppe aveva 18 anni e lui è là al riparo dal vento prima di andarsene dopo la tracheotomia prima di entrare in coma in una stanza dell'ospedale Molinette sotto la neve di febbraio scrisse alcuni biglietti che ora vorrei leggervi cari mamma e papà ben poco ho saputo fare per aiutarvi ma spero che Walter potrà supplire anche per me voi tenetemi da conto Luciana e Margherita per il resto vivete in pace senza dolore per me vostro amatissimo figlio Beppe caro fratello Walter a te e alla tua bella famiglia felice buon proseguimento appoggia estima Luciana la quale di tanto in tanto si consulterà con te per Margherita avrei piacere che mia figlia trascorresse sempre una parte di vacanze con Franco e Luisa funerale civile di ultimo grado domenica mattina senza soste fiori e discorsi vivi sempre felice con i tuoi cari e tienimi sempre da conto la mia Margherita Beppe a Pietro Chiodi caro Chiodi ti prego di occuparti anche tu a suo tempo degli studi di mia figlia Ita a donna tale Bussi ho chiesto a Luciana se voleva regolare il matrimonio con la chiesa mi ha detto di no così io ho la coscienza in pace ho anche deciso con lei per i funerali civili ho sbagliato caro Don Bussi parli qualche volta di me ai suoi giovani mi difenda sempre si interessi anche un po' alla mia piccola Margherita ciao per sempre Ita mia cara ogni mattina della tua vita io ti saluterò figlia mia adorata cresci buona e bella vivi con la mamma e per la mamma e talvolta rileggi queste righe del tuo papà che ti ha amato tanto e sa di continuare a essere in te e per te io ti seguirò ti proteggerò sempre bambina mia adorata e non devi pensare che io ti abbia lasciata tuo papà e questo è il punto non ci ha lasciati affatto non è mica finita tutto il contrario anzi basta soltanto leggerlo o rileggerlo e per le sue parole costate quella fatica nera generate da una così profonda fede in una vita di soli 40 anni che ancora dura e durerà valgono le poche parole che Beppe stesso scrisse un giorno all'amica Anna Maria Buoncompagni parlando d'altro eppure no in un certo senso dicendo anche di sé quando aveva solo 24 anni ad Anna Maria Buoncompagni Santo Stefano Belbo 1946 Cara Anna Maria oggi ho sentito una nuova canzone nuova almeno per me con una musica che un poco ti somiglia non posso descriverla ma soltanto e molto bene sentirla una musica che non si può descrivere ma soltanto e molto bene continuare a sentirla ecco perché non è mai stato un addio ma sempre e solo un arrivederci grazie 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 già che io non mi sia commossa è un miracolo ve lo dico anche perché ormai piango per tutto quindi grazie